Ciao Massimo, nato a Milano il 31 ottobre 1980, più di 300 presenze in Serie A e una ventina di partite tra Coppa UEFA e Champions League. Complimenti Massimo. Grazie, sono vecchio. Sei pronto a rispondere ad alcune domande sulla tua vita? No, sì, scherzo. Iniziamo. Tre aggettivi per descrivere Massimo Gobbi. Testardo, generoso, lavoratore. Come ci si arriva a più di 300 presenze in Serie A? Trovando allenatori scarsi che puntino su di te. E a giocare in Champions League? Altrettanto, sono ancora peggio. La squadra più forte che hai incontrato? La Juve di Cappello. E il giocatore più forte? Ho avuto la fortuna di fare un amichevole contro il Barcellona, c'era Messi, probabilmente lui. Tra le tante che hai giocato, la tua partita perfetta è stata? Ma forse le finali play-off con l'Albinolef, dalla C1 alla B, le portano nel cuore, quindi ti dico quelle. Ma se ti dico Bayern Monaco e Allianz Arena, a cosa pensi? Sentimenti contrastanti, un bellissimo ricordo perché era una partita importantissima, però sono state espulse e poi avevano pareggiato in fuorigioco netto, quindi ricordi, sentimenti contrastanti. Bello e brutto ricordo. A parte questo episodio, nel girone avete battuto squadre come Liverpool e Lione. Avresti mai pensato di arrivare così in alto? Ma era un sogno che hai fin da bambino, che riesci a realizzare. Tu, Dainelli e Gamberini formavate già allora un bel trio. Quante bischerate avete combinato? Tantissime, spogliatoio. È una continua presa in giro e continua anche adesso. Adesso ancora peggio perché poi quando invecchi diventi ancora più bischero. Di questi due ragazzacci, dici pregi e difetti. Un pregio di Dario Dainelli. Dario Dainelli è un punto di riferimento. E un difetto? Sta perdendo praticamente i cappelli. Pregio di Gamberini. Pregio di Gambero è una potenza. Difetto, purtroppo quel naso lì ci possiamo fare poco. Veniamo a te. Musica, cantante o gruppi preferiti? Ma è italiano, litfiba tutta la vita e straniero ti dico Radiohead che andrò a vedere il 3 giugno a Barcellona. Canzone preferita? Stamattina mi è capitato di riascoltare una cover di David Bowie che lo ricordiamo è The Man Who Sold The World. Ci canti un pezzo del ritornello? The Man Who Sold The World. Cinema, film preferito? C'era una volta in America. Attore o attrice preferiti? Attore Al Pacino, attrice Charlize Theron. Se non avessi fatto il calciatore cosa avresti fatto? Da bimbo piaceva la storia, dicevo di fare l'archeologo, ma poi successivamente penso che non sarei riuscito a farlo. E quando smetterai con il calcio cosa farai? Ho preso il patentino base di allenatore, vedremo ecco. La donna più bella del mondo è? La mia bimba Anita. Il gol più bello che hai fatto? Ho fatto sempre con l'Albino Leffe, al volo di destro da un calcio d'angolo, tutti mi venivano incontro e ho detto ho fatto gol e sì, effettivamente ho riuscito a fare il gol. E l'assist più bello? Ti dico uno dei più recenti che in un parma Genoa ha una bella azione sull'esterno e poi l'ho messa in mezzo per coda che ha fatto gol da 30 centimetri. I tuoi compagni di squadra? Il più simpatico? Beh, Pepe Pinzi, coppia di altissimo livello. Il più elegante? Dai Nelli? Beh, anche cacciatore però se la giocano. Il più bello? C'è un po' davanti quindi. Il più vanitoso? Ti dico se la giocano dai Caccia e Patacastro. Il più social? Beh, penso a Simone Pepe che ha più followers di tutta Verona messa insieme. A proposito di social, quali hai? Io ho Instagram e Twitter. Pensa ad un hashtag per la partita di domenica contro il Palermo e lancialo. Ma visto che siamo qui possiamo fare ancora di più, facciamo hashtag miglioriamoci. Segui altri sport oltre il calcio? Sì, mi piace molto il basket e soprattutto l'NBA. Non tifo una squadra ma tifo un giocatore che è Kevin Durant. Passiamo ai tuoi hobby. Cosa fai quando non ti alleni? Ascolto musica. Quando Anita dorme, la bimba dorme, ascolto un po' di musica e cerco di guardare qualche partita NBA. Però adesso sta diventando difficile. Ma con la chitarra come va? Avevo iniziato e ho fatto un paio d'anni col maestro e adesso un pochino abbandonato ma conto di riprendere più avanti. Che canzone ti piace suonare? Il mio livello è ancora basso, non sono ai livelli del Patacastro, ti dico Wonderwall degli Oasis. Passa una sera a cena con tre personaggi famosi, chi sono? Marco Van Basten che era un mio idolo da bambino e Steph Curry, un altro. Quindi basket, calcio, ci mettiamo Piero Pelù dell'Itfiba. Come concludereste la serata? Con Piero che canta e noi che proviamo a cantare e a fare del casino. L'ultimo concerto a cui sei stato? Giovanotti a novembre a Milano. E quello a cui vorresti andare? Ci vado, 3 giugno a Barcellona a vedere Radiohead. Ma un bel duo tipo Simon e Garfunkel con Castro? Ci avete mai pensato? Sì, il problema è che lui canta e suona decisamente meglio di me e quindi io potrei fargli solo da accompagnamento, proprio avanti quando riprende. Massimo, l'intervista è finita. Saluta i tifosi gialloblu. Saluti a tutti, forza Chievo e tutti presenti domenica al campo, hashtag miglioriamoci. Miglioriamoci.